Va bene, buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi dedichiamo le intere tre ore a risolvere la simulazione d'esame che abbiamo fatto la scorsa settimana. Poi, nelle ore di laboratorio, questa settimana faremo la seconda simulazione che risolveremo di nuovo lunedì prossimo. Va bene, abbiamo abbastanza tempo, quindi direi che possiamo affrontarla con calma. Magari finiamo anche un attimo prima, vediamo come porta. Simulazione d'esame che si basava sul database iTunes. Vi ricordo che i due database che vediamo nelle due simulazioni d'esame saranno quelli che ci accompagneranno per tutti gli appelli di questo anno accademico fino a l'ultimo di settembre, credo, dell'anno prossimo. Come l'avete trovata questa simulazione? Era abbastanza facile, quindi potrebbe capitare un esame di difficoltà simile, ma anche un pochino più complicato. Questa era abbastanza facile. Siete riusciti a farla in tempo? Sì, va bene. Cerchiamo di affrontarla, di risolverla, vedendo magari anche qualche alternativa per migliorarne la risoluzione, soprattutto del punto 2. Quindi questo database iTunes, che appunto ritornerà molte volte, ha un numero discreto di tabelle, è molto intuitivo, quindi estratto dalla piattaforma iTunes, dalla piattaforma di un utente reale, e quindi modella delle informazioni su delle tracce audio, che sono modellate dalla tabella track. Queste tracce sono incluse in album discografici, questi album ovviamente hanno un artista. Dopodiché, come ben saprete, su iTunes possiamo avere le playlist. Quindi vediamo che c'è questa tabella playlist track, che modella la relazione molti a molti tra una track e una playlist. E poi, abbiamo sfruttato queste due informazioni nella simulazione, le tracce possono avere un media type, sarebbe il formato del file, della canzone, mp3, eccetera, e un genere. Ok? Questo è un po' il database. Vediamo cosa ci chiedeva la simulazione. Permettere all'utente di selezionare dall'apposita tendina un genere G, quindi abbiamo un input a tendina, questa tendina andrà riempita ovviamente appena il programma parte, con informazioni che prendiamo dal database, in particolare dalla tabella generi. Prendiamo tutti i generi e li mettiamo lì nella tendina. L'utente può selezionarne uno e alla pressione del bottone crea grafo, occorre creare un grafo semplice, non orientato, pesato, i cui vertici sono tutte le canzoni di genere G. Ok? Quindi c'è già un primo filtro sui vertici, non andiamo a mettere tutte le canzoni, ma solo quelle di genere G. Dopodiché il testo ci dice che due canzoni sono collegate tra di loro se condividono lo stesso formato di file, ok? Quindi hanno lo stesso media type. Il peso dell'arco, sempre positivo, rappresenta il valore assoluto della differenza di durata tra le due canzoni. in delta durata, espresse in millisecondi. Se andiamo a vedere, la tabella track ha una colonna milliseconds che appunto esprime proprio la durata delle canzoni in millisecondi. Quindi abbiamo già tutto quello che ci serve, dobbiamo solo fare la differenza e prendere il valore assoluto. Ok? Quindi come alla fine, quando il grafo sarà creato, come riuscite a visualizzarvelo, come sarà questo grafo? Proprio la sua struttura. Abbiamo delle canzoni che sono collegate solo se hanno lo stesso formato. Quindi i vertici saranno tutti connessi tra di loro? No. Avremo tante componenti connesse, in cui ogni componente connessa è formata da tutte le canzoni di un certo formato. Ovviamente queste componenti connesse non si parlano tra di loro, sono separate. Poi c'è il punto D. Alla pressione del bottone delta massimo, trovare nel grafo e stampare a video la coppia di canzoni collegate che abbia delta durata massimo. Nel formato, vabbè, titolo canzone 1, titolo canzone 2, delta durata. Si tratta in sostanza di trovare l'arco col peso maggiore. La piccola complicazione in più è che non possiamo escludere che ci siano degli archi con lo stesso peso massimo. Allora, nel caso in cui ci sia più di una coppia che abbia questo delta durata massimo, occorre stamparle tutte e non solo il primo che capita. Ma questo lo vediamo quando ci arriviamo dopo. Ok. Se non ci sono domande, passiamo al testo, scusate, a Eclipse, quindi a impostare il nostro programma. Allora, abbiamo detto l'input è la selezione di un genere. Questi generi dobbiamo recuperarli. Andiamo un po' a vedere nel DAO del progetto base se abbiamo già qualcosa che fa il caso nostro. E direi di sì. Abbiamo già il metodo che ci recupera tutti i generi. Quindi siamo fortunati, non dobbiamo fare una qui riaggiuntiva. E allora direi che nel modello, che ovviamente sarà vuoto, ci impostiamo già un metodo per recuperare tutti questi generi per poi passarli al controllore, no? Il DAO è l'ultimo livello, diciamo così, dobbiamo risalire fino al controllore passando dal modello. Quindi sicuramente un metodo public list genere, get generi ci servirà, direi. Importiamo list e facciamo da passacarte ritornando direttamente quello che ci ritorna al metodo del DAO. Ovviamente il DAO qui non ce l'abbiamo ancora, dobbiamo crearcelo. Di nuovo, possiamo sempre crearcene uno al volo oppure possiamo pensare di crearne uno solo definendo un attributo del modello come DAO. Quindi mi definisco un, come si chiama? iTunes DAO. DAO. Importo. E lo vado a istanziare, direi, nel costruttore del modello. E dico DAO uguale new iTunes DAO. Adesso questo DAO lo posso usare e qui posso dire DAO.getAllGeneres. Ok? Adesso risaliamo ancora di un livello, usiamo questo metodo per riempire la tendina nel controllore. Questa tendina andiamo a riempirla ovviamente all'inizio, quando il programma viene lanciato. L'utente deve già poter selezionare un genere. Dove la riempio? Questa tendina che si chiama combo box genere, direi. Allora, innanzitutto qua devo dire il tipo di oggetti che andrà a contenere questa tendina. Quindi, genere. La classe è da importare. Ok. Dove vado a riempirla? Ho visto, passando tra i vari PC durante le simulazioni, che qualcuno ha provato a riempire questa tabella nel metodo inizializza. Ok? E non è il punto giusto perché il metodo inizializza viene richiamato prima della set model. Quindi, se proviamo a riempire la tendina qui, noi per riempire la tendina dobbiamo richiamare un metodo del modello. Giusto? Ebbene, se richiamiamo un metodo del modello qui dentro, riceviamo una bella null pointer exception perché il modello non è ancora stato settato. Ok? Quindi il posto giusto quando dobbiamo riempire delle tendine e soprattutto quando dobbiamo riempirle con dei dati che ci arrivano dal modello è questo qui nella set model ovviamente dopo questa istruzione. Ok? Prima imposto il modello e poi lo utilizzo. E quindi dico che dis.combo box genere punto solito metodo get items punto add all così riusciamo a riempire la tendina subito con tutti i valori che ci interessano. Questi valori li prendiamo dal dis.model punto get generi. ok proviamo subito vi ricordo è importante provare spesso il programma e non solo una volta alla fine e infatti già un'eccezione è la solita access denied for root localhost mi sono dimenticato di cambiare la password va bene dbconnect set password la mia password se non mi sbaglio quella del laboratorio è root ok quindi per tutti sarà root riproviamo rilancio ok vediamo se nella tendina ci sono i generi direi di sì siamo fortunati la stampa è già a posto perché nella genere c'è già l'override del to string altrimenti lo potete fare voi questo override ma in questo caso c'era già nel progetto base ok chiudiamo un attimo e torniamo sul modello concentriamoci sul grafo è il solito quindi un grafo semplice pesato non orientato lo definiamo come graph e poi quando faremo la new andremo a specificare la classe corretta quindi graph dunque i vertici sono di tipo track le canzoni e gli archi i nostri soliti default weighted edge no 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 scusate diamo un nome a questo grafo va bene grafo importiamo le classi prima graph che in realtà è un'interfaccia e poi default weighted edge benissimo come al solito come al solito il grafo ci conviene crearcelo in un metodo public void crea grafo il metodo che verrà scatenato al click del bottone da parte dell'utente riceviamo dei parametri in questo metodo direi di sì qui ci stanno sempre gli eventuali filtri su vertici e archi in questo caso sicuramente l'utente può selezionare un genere dalla tendina e quindi avremo come parametro appunto un genere allora creo il grafo con la new mai dimenticarsene quindi this.grafo uguale new simple weighted graph e tra parentesi tonde default weighted edge punto class andiamo a capo così si legge meglio e importiamo simple way oh benissimo le solite due parti di cui la prima è aggiungo i vertici allora io uso il mio solito metodo poi ovviamente si può si possono ci possono essere alternative il mio solito metodo è avere un identity map dove metto tutti i possibili oggetti che recupero dal database in questo caso tutte le possibili canzoni e poi dalla mappa mi andrò poi a recuperare un sotto insieme di queste canzoni che saranno i miei vertici quindi per impostare questo metodo ho sicuramente bisogno di una mappa di identità che definisco qui map in cui la chiave è l'id della della canzone in questo caso che non mi ricordo di che tipo è lo andiamo a vedere le canzoni hanno un id intero benissimo integer virgola il valore i valori saranno delle track e chiamo questa mappa id map importo map e la vado a creare a braccetto con il DAO quindi nel costruttore del modello mi istanzio anche questa in questo caso hash map importo hash map adesso sempre qui direi nel costruttore del modello quando il programma parte voglio recuperarmi tutte le canzoni del database e riempirmi questa mappa se andiamo a vedere nel mio DAO sicuramente c'è eccolo qua il metodo per ottenere tutte le canzoni lo vado a modificare un pochino affinché questo metodo non ritorni una lista di track ma riceva la mappa e me la riempia ok quindi map come parametro integer track id map importo map allora è un metodo void quindi questa lista result non mi serve più neanche la return non ritornerà niente questo metodo semplicemente per ogni canzone che andrà a trovare quindi per ogni riga che viene restituita dalla query andrò a controllare se la relativa canzone c'è già nella mappa oppure no se c'è già non faccio niente se non c'è ancora la creo e lo aggiungo nella mappa come faccio controllare se la canzone c'è o non c'è nella mappa semplicemente con una get quindi if o una contents key in realtà quindi if not id map punto contents key quindi se questa chiave non è ancora contenuta qual è la chiave? beh la chiave sarà questa no? rest.getint l'id della canzone quindi se quella canzone di quella determinata riga non c'è ancora prendo questa new qui ok no no questo e mi creo questa nuova canzone track t uguale new la creo e poi la aggiungo nella mappa quindi id map punto put l'id quindi t punto get track id e come oggetto t altrimenti non faccio proprio niente ok adesso posso usare questo metodo nel modello dopo aver creato la mappa la riempio quindi this punto dao punto get all tracks eccolo qua a cui passo la mia mappa che verrà riempita quindi ho fatto un po' fatica all'inizio perché ho fatto questa query un po' più grande questa è new ma mi son portato tutto in memoria in una mega mappa che poi userò molto velocemente per estrarre un sotto insieme di questa mappa ovviamente questo sotto insieme andrà estratto sempre con una query ok però poi da questa query non farò più delle new ma andrò a fare delle get dalla mappa in modo molto veloce quindi chi sono i vertici i vertici sono tutte le canzoni di genere G va bene direi che la query è abbastanza semplice no? sì non abbiamo tutto in un'unica tabella dobbiamo prevedere di avere due tabelle nella query però mi sembra abbastanza semplice se volete possiamo provare a farla su SQL Pro allora select abbiamo la mappa quindi in realtà ci basta l'id delle canzoni track id se non mi sbaglio selezioniamo solo il database che è iTunes vediamo un attimo il nome della tabella corretto sì track id from beh sicuramente track ma anche la tabella genere where dobbiamo fare la join tra le due tabelle quindi vediamo un attimo come si chiamano ah no no scusate sì potenzialmente ci potevano servire le due le due tabelle in realtà noi l'oggetto genere ce l'abbiamo è quello che selezioniamo dalla tendina giusto e quindi di un oggetto genere abbiamo anche il suo ovviamente id lo conosciamo e quindi grazie a questa informazione possiamo sfruttare solamente la tabella track perché ci basta imporre l'id di quell'oggetto genere che l'utente seleziona molto più facile quindi leviamo questa genere e vabbè where genere id uguale punto interrogativo sarebbe quello che seleziona l'utente quindi possiamo provare a prenderne uno a caso ad esempio proviamo con il rock e questi sono tutti gli id delle canzoni di genere rock dall'id poi con la mappa passiamo alle canzoni vere e proprie ok seleziono torno di là e va bene passiamo al DAO e in fondo ci predisponiamo un metodo pubblico per ottenere i vertici get vertici che cosa ritorneremo direi una lista di track parametri direi il genere 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 ok allora string sql la mia query che posso incollare la sistemo cancellando gli slash n e lasciando uno spazio alla fine e mettendo un punto interrogativo al posto del parametro poi avrò la mia lista di appoggio quella che ritornerò una lista di track result uguale new array list e a questo punto abbiamo il nostro try catch sql exception e in cui se per caso c'è un errore magari stampiamo scusate manca una n qui magari stampiamo lo stack dell'errore così capiamo il motivo dell'eccezione poi possiamo scegliere se ritornare null o rilanciare l'eccezione ad esempio con una runtime exception quindi la stiamo rilanciando non è compito nostro gestirla sarà compito di chi ci chiama eventualmente di catturare questa eccezione e di gestirla come meglio crede se non ci sono eccezioni ritorniamo la nostra lista result che saranno i nostri vertici nel try catch sicuramente la prima cosa da fare è recuperarci una connessione dal connection pooling quindi dbconnect punto get connection dopo la connessione ci recuperiamo un prepare statement lo chiamiamo sopra st dalla connessione prepare statement a partire dalla query che abbiamo definito quindi ci impacchetta questo prepare statement in cui possiamo andare a inserire il nostro parametro il nostro id del genere quindi st punto set int impostiamo solo l'id del genere a posizione 1 il nostro genere punto get genere id solo a questo punto possiamo eseguire la query con questa operazione qui che copio da sopra e poi scorriamo il result set while res punto next il next ci dice sia se c'è ancora una riga e fa anche andare avanti il cursore del result set e quindi se c'è un vertice se c'è una canzone la posso aggiungere alla mia lista result non facciamo nessuna new perché abbiamo la mappa quindi tramite il track id che recuperiamo qui nella query andiamo a recuperare la canzone nella mappa quindi ecco mi accorgo adesso che questa mappa ci manca qui e allora gliela passo qui come parametro map integer track id map ok e quindi a questo punto uso l'identity map per ottenere la mia canzone con la get ok e qui gli passo res punto get int è un numero e tra virgolette l'id che recupero dalla query quindi usando proprio lo stesso nome track id quando ho finito con punto close altrimenti dopo un po' tutto si blocca la return è già sotto e io adesso ho la mia il mio metodo per recuperarmi i vertici salvo ok torno nel model e aggiungo i vertici quindi this graphs direi così li aggiungiamo tutti in una volta sola la classe graphs punto add all vertices dobbiamo specificare il grafo this punto grafo e poi la collection di vertici che recuperiamo da this punto dow punto get vertici a cui passiamo il genere andiamo a capo così vediamo meglio il genere e l'id map che è un attributo della classe modello ok se anche per voi questa parte è noiosa come lo è per me perché è sempre uguale siete a buon punto perché vuol dire che almeno qui potete andare veloce come ho fatto io allora facciamo proprio come se io dovessi fare l'esame ripeto è importante provarlo molte volte quindi nel package model io mi faccio la mia classe che chiamo test model ok creandomi anche un main una classe temporanea per provare la creazione del grafo in questa classe nel main mi crea un'istanza del mio modello benissimo e poi vorrei creare il grafo mi serve un genere vabbè il genere verrà selezionato dalla tendina ma per provarlo al volo posso anche pensare di crearmi un genere al volo tanto è una classe veramente facile che ha solamente un id e un nome ok allora mi creo un genere g uguale new genere mi creo un genere che ovviamente è presente nel database quindi se supponiamo il rock abbiamo 1 rock ok allora dico 1 e tra virgolette rock e poi mi creo il grafo magari nel metodo di creazione del grafo inserisco già la stampa in questo caso solo dei vertici perché ho aggiunto solo i vertici quindi dico system.out .println la solita stampa grafo creato system.out .println string .format ok numero vertici due punti per cento di virgola dis punto grafo punto vertex set punto size vediamo un po' se mi stampa un numero di vertici ragionevoli ok vado di nuovo sul mio test model lancio e sembra funzionare quindi grafo creato 1297 vertici possiamo provare anche a cambiare genere per vedere che ci siano numeri diversi mi aspetto che col jazz ci siano meno vertici a meno che questo non fosse questo utente se non fosse un appassionato se direi di sì 130 ok quindi vedete che se riusciamo a provare mano a mano il nostro programma siamo più sicuri di fare le cose bene e di non arrivare alla fine magari avendo sbagliato l'inizio e quindi poi è un casino perché dobbiamo modificare tutto torniamo sul model e passiamo all'aggiunta degli archi che è la parte direi più ostica allora il testo ti dice che due canzoni sono collegate tra loro se condividono lo stesso formato di file media type quindi il peso dell'arco sempre positivo rappresenta il valore assoluto della differenza di durata tra le due canzoni come sempre andiamo a vedere di quali tabelle abbiamo bisogno così capiamo subito che tipologia di query dobbiamo andare a impostare stesso formato media type come prima ci potrebbe venire da pensare di utilizzare questa tabella qui no in realtà se noi dobbiamo solo impostare che il formato sia lo stesso ce la possiamo cavare con semplicemente il media type id che sta nella tabella track quindi imponendo questo media type id uguale per due canzoni sappiamo che queste due canzoni devono avere lo stesso formato quindi bene escludiamo già la tabella media type l'informazione sui millisecondi sta anche ovviamente nella tabella track e quindi direi che il formato della query è il solito quello in cui facciamo il join della tabella con se stessa cerchiamo di enumerare tutte le possibili coppie di canzoni andando a impostare alcuni filtri tra cui il media type è uguale ok quindi era molto facile torniamo qui query allora appunto enumeriamo le varie coppie quindi avremo due tabelle track 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 t1 track con la lettera minuscola track t2 e qui avremo t1 punto usiamo gli id perché tanto abbiamo l'identity map track id e t2 punto track id poi al solito possiamo escludere coppie duplicate con il solito trucchetto di dire t1 punto track id maggiore di ad esempio t2 punto track id quindi questo ci serve per escludere sia le coppie con lo stesso identificativo sia le coppie invertite poi abbiamo detto le due canzoni devono condividere lo stesso formato e beh basta fare and t1 punto media type id sì uguale a t2 punto media type id poi però c'è ancora un altro filtro che posso aggiungere perché già i vertici sono filtrati quindi se noi lasciassimo la query così andremo a recuperare delle connessioni tra vertici canzoni che non ci sono nel grafo quindi da un lato è della computazione non necessaria quindi questa query sarebbe lenta e farebbe cose che non ci servono dall'altro lato ancora se poi noi provassimo magari per errore a inserire degli archi tra vertici che non esistono nel grafo ovviamente andremo incontro a delle eccezioni quindi quando c'è un filtro sui vertici viene sempre riportato anche nella query degli archi se decidiamo di fare due query separate come ho fatto io e quindi posso anche dire che il genere sia quello specificato dall'utente lo imposto per t1 genere id uguale che ne so rock e poi imposto che quello di t2 debba essere uguale a quello di t1 and t1 punto genere id uguale a t2 punto genere id ci manca ancora qualcosa ovvero il peso dell'arco che il testo ci dice essere la differenza di durata in millisecondi allora qui come si fa secondo voi serve una funzione di aggregazione direi di no noi abbiamo tutte le coppie di canzoni ok e l'informazione che ci chiede è relativa a una singola canzone quindi la durata di t1 meno la durata di t2 non dobbiamo non ci viene richiesta un'informazione per cui è necessario contare qualcosa fare la media di qualcosa ci dice prendete due canzoni e fate la differenza di durata allora basta fare t1 punto milliseconds la colonna milliseconds milliseconds meno t2 punto ah ho fatto casini no 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 scusate meno t2 punto milliseconds magari questa differenza la mettiamo tra due parentesi tonde così possiamo anche ridefinirla come delta as delta ok il testo poi ci dice il grafo è non orientato e quindi questa differenza va presa in valore assoluto questa differenza va presa deve essere sempre positiva ora questa cosa la possiamo fare lato codice oppure possiamo mettere la funzione abs di mysql che in automatico ci prende il valore assoluto è uguale farlo qui ho lato codice lato codice bisogna solo ricordarsi di controllare se delta è minore di 0 lo moltiplico per meno 1 ad esempio proviamo a lanciare ci mette un pochino anche perché il genere rock è quello probabilmente con più canzoni infatti ci sono 736.000 righe comunque sembra funzionare ci sono queste due colonne con gli d delle canzoni più il delta che mi sembra essere sempre positivo se proviamo con il jets sicuramente ci mette di meno infatti solo 8.000 righe domande su questa query? ok se non ci sono domande la copio e torno di là allora abbiamo adottato l'approccio chiamiamolo l'approccio 3 quello in cui ci facciamo dare tutto dal database e quindi ci serve la nostra classe adiacenza anche perché altri approcci non avrebbero funzionato dato il numero elevato di vertici quindi sul package del model tasto destro new class adiacenza adiacenza qui possiamo avere le due canzoni track T1 track T2 e il peso che è una differenza in millisecondi boh direi intero long int int dovrebbe bastare quindi peso magari privati le solite cose quindi source generate constructor using fields il costruttore con tutti i campi e poi getter e setter quindi tasto destro source generate getter e setter tac 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 ok benissimo adesso partiamo dal DAO e risaliamo quindi nel mio iTunes DAO prevedo un metodo che mi ritorni una lista di adiacenze quindi public list adiacenza getarchi anche qui riceveremo sicuramente un genere che è il nostro filtro che c'è sia sui vertici che sugli archi e direi anche la mappa no? perché noi andiamo a recuperare queste coppie di id e poi dagli id passiamo alle canzoni tramite la mappa e quindi mi incollo i miei parametri importo adiacenza e la solita tiritera quindi string sql uguale me la devo andare a ricopiare perché ho copiato i parametri aiuto ok la sistemiamo un attimino togliamo gli slash n slash n qui al posto del 2 mettiamo un punto interrogativo e qui mettiamo un punto e virgola ok adesso la nostra lista di appoggio che in questo caso sarà una lista di adiacenza result uguale new array list e poi il try catch sql exception e copia da sopra perché altrimenti se non ci sono eccezioni return result ok copio anche qui le varie righe che saranno uguali perché di nuovo abbiamo come parametro da impostare solo il genere quindi queste quattro righe saranno identiche e poi scorro while res.next e qui dico result.add per ogni riga vado a recuperarmi l'arco l'adiacenza composto dalle tre informazioni che ci siamo detti magari per semplicità t1.trackid nella query lo ridefinisco come as t1 e t2.trackid lo definisco come as t2 in questo modo la new diventa più semplice new adiacenza di che cosa? di res.getint t1 virgola res.getint t2 virgola res.getint delta andiamo a capo no aspettate ok c'è probabilmente qualche problema di parentesi forse c'è una parentesi in più no ah giusto esatto ovviamente per come ho deciso di grazie di strutturare adiacenza voglio inserire direttamente la canzone non l'identificativo quindi devo ancora avere un passaggio in più dall'id uso la mappa per arrivare alla canzone va bene quindi id map punto get di quella roba lì di res.getint t1 e faccio la stessa cosa per il t2 id map punto get res.getint t2 attenzione non faccio nessun controllo che questa mappa contenga effettivamente t1 perché appunto ho inserito gli stessi filtri sia nella query dei vertici che in quella degli archi per di più la mia mappa contiene tutti tutte le possibili canzoni quindi non può capitare che questa get ritorni dia un'eccezione per un valore che non ci sia perché li contiene tutti quindi direi che non servono controlli aggiuntivi alla fine del while con punto close ok adesso nel modello posso finalmente aggiungere anche gli archi diventa una procedura abbastanza banale per ogni adiacenza aggiungo l'arco quindi for adiacenza a in dis.model scusate no dis.dao punto get archi a cui passo il genere e la mappa importiamo adiacenza ah no l'ho scritto male scusate adiacenza per ogni adiacenza aggiungo l'arco qui di nuovo da un lato abbiamo escluso le coppie invertite direttamente nella query quindi già sono sicuro che becco l'arco una sola volta ma anche lo beccassi più volte non importa perché è un un grafo non orientato quindi eventualmente l'arco viene sovrascritto e mi sta bene così quindi dico graffo graffo punto add edge width vertices quello che ha anche il peso dis.grafo di a.get t1 il vertice sorgente a.get t2 il vertice destinazione e a.get peso fine prevediamo anche la stampa del numero degli archi così poi andiamo a fare la nostra prova system punto out punto print ln string punto format numero archi due punti per cento di virgola di andiamo capo dis.grafo punto edge set punto size a questo punto possiamo andare nel nostro test model che non trovo più eccolo qua e a riprovare ad esempio con sempre con il jazz vediamo un po' cosa succede ok 130 vertici 8004 archi che era esattamente il numero che mi veniva prima in sequel pro e quindi sembra sembra funzionare domande dubbi girando in laboratorio mi sembra che più o meno l'abbiate risolto tutti in modo abbastanza uniforme passiamo allora al punto D che ci chiede di trovare l'arco di peso massimo in sostanza la richiesta è quella con l'unica complicazione di tenere in considerazione il fatto che ci possa essere la possibilità di avere più di un arco con lo stesso peso massimo ok andiamo nel modello e innanzitutto chiediamoci di che cosa abbiamo bisogno di un metodo che ci ritorni che cosa dobbiamo stampare non solo il peso ma anche i due vertici quindi titolo canzone 1 titolo canzone 2 delta durata che sarebbe il peso quindi o ci facciamo una nuova classe no in cui ci siano due stringhe e un peso e un peso oppure più semplicemente riutilizziamo la classe adiacenza no che abbiamo appena fatto per gli archi la riutilizziamo per questo è vero la classe adiacenza non ha solo il titolo della canzone ma recuperare il titolo della canzone si fa in modo semplicissimo con una get giusto e quindi possiamo prevedere che questo metodo ritorni che cosa direi una lista di adiacenza se teniamo in considerazione il fatto che possiamo avere più di un arco con il peso massimo quindi questa è la complicazione in più non ricerchiamo un unico massimo ma potenzialmente ne possiamo trovare più di uno e quindi restituiamo una lista che poi nella maggior parte dei casi avrà un solo elemento ma va bene get delta massimo allora ci sicuramente ci dobbiamo definire questa lista che poi ritorneremo la andiamo a creare chiamiamola sempre result uguale new array list di adiacenza vabbè ricercare il massimo dovreste sapere come si fa l'idea qui potrebbe essere questa usiamo il solito metodo per ricercare un valore massimo da un insieme di elementi e tuttavia distinguiamo i due casi se troviamo un valore che è maggiore del migliore del massimo che abbiamo visto fino a quel momento a quel punto lì quindi tiriamo via tutto quello che c'è in result e inseriamo il valore che abbiamo appena trovato se invece troviamo un valore che è uguale al massimo che abbiamo visto fino ad adesso semplicemente non cancelliamo quello che c'è in result ma prendiamo quello che abbiamo trovato e glielo andiamo ad aggiungere a mettere di fianco quindi per ritrovare il massimo abbiamo bisogno di un valore che impostiamo molto piccolo sappiamo essere minore di tutti i valori che sono presenti nella collezione quindi direi massimo zero per definizione il grafo non ha archi con peso zero e quindi poi scorriamo tutti gli archi e andiamo a prenderne il peso controllandolo con questa variabile qui quindi come facciamo a scorrere tutti gli archi con l'edge set quindi for default weighted edge e in this punto grafo punto edge set quindi per tutti gli archi ne vado a prendere il peso int peso uguale lo recuperiamo dal grafo dis punto grafo punto get edge weight e va bene sì questa get edge weight ci ritorna un double noi sappiamo che i pesi sono dei numeri senza virgola e possiamo fare il cast a intero adesso qui abbiamo questi due casi se il peso è maggiore di max vuol dire che devo pulire tutto quello che avevo trovato fino a questo momento e impostare questo massimo come l'unico elemento massimo che ho visto fino ad adesso e quindi posso dire result punto clear pulisco e poi ci aggiungo il nuovo valore massimo result punto add dobbiamo crearci ovviamente la diacenza il peso e la variabile max sono solamente due variabili temporanee che ci permettono di trovare i massimi e i massimi li modelliamo come delle adiacenze quindi result punto add new adiacenza e dobbiamo fare un po' di lavoro recuperarci il nodo sorgente il nodo destinazione e il peso il peso ce l'abbiamo già quindi per recuperarci il nodo sorgente dis punto grafo punto get edge source a cui passiamo e virgola vado capo forse dis punto grafo punto get edge target sempre di e e il peso ce l'abbiamo già l'abbiamo recuperato qua sopra e quindi dico peso e ovviamente reimposto il massimo al nuovo valore massimo che ho trovato e quindi dico che max è uguale a peso questo è il caso in cui veramente troviamo un valore migliore di quello che abbiamo visto fino ad adesso else dobbiamo anche gestire però il caso in cui il peso sia uguale al massimo che abbiamo visto fino ad adesso in questo caso uguale uguale quello che cambia è semplicemente non vado a fare la clear perché tutto quello che c'è dentro per i miei criteri è uguale a quello che sto trovando adesso e quindi vado ad aggiungere semplicemente la mia nuova adiacenza anche questa riga è superflua perché il max sarà ancora uguale al peso else if ovviamente la else non ci serve perché se è minore lo scartiamo alla fine del for return result domande su questo punto 1d appunto l'unica cosa che mi preme sottolineare è leggete bene il testo perché aveva questa complicazione in più ho visto qualcuno durante la simulazione che ritornava una sola adiacenza quella massima ovviamente può andare bene ma magari non si prende il punteggio massimo perché mancava questa complicazione in più quindi leggete sempre bene il testo se avete dubbi chiedete perché dubbi sul testo ovviamente rispondiamo sempre nel mio test model provo anche dopo aver creato il grafo il mio m punto facciamo una stampa system punto out punto print ln m punto get delta massimo vediamo un po' ok immaginavo questa cosa ci stampa una schifezza ci basta impostare una to string fare l'override della to string nella classe adiacenza così possiamo stampare esattamente cosa vogliamo in particolare i titoli delle due canzoni più il peso ok vado nella mia classe adiacenza tasto destro source generate to string eccolo qua me la faccio generare poi la modifico cancello tutto possiamo stampare t punto t1 punto get name direi il titolo sì più magari un trattino con degli spazi più t2 punto get name più che ne so un uguale più dis punto peso ok riproviamo un attimo andiamo nel test model rilanciamo e abbiamo questa roba qui come vedete c'è un solo arco di peso massimo che però è incluso in due parentesi quadre perché è una lista ma va bene qui siamo quasi al fondo del punto 1 ci rimane solo da collegare il tutto al controller quindi prima di fare una pausa direi che possiamo terminarlo in questo modo quindi nel mio controller abbiamo già riempito la tendina nel do crea grafo dobbiamo recuperarci l'input che sarà un genere genere g uguale dis punto combo box genere punto get value il controllo dell'errore che in questo caso è molto semplice if g uguale uguale a null l'unico problema che può capitare è l'utente clicca su crea grafo senza selezionare il genere quindi se questo succede quindi se g uguale a null stampiamo un messaggio di errore append text seleziona un genere e facciamo una return non andiamo avanti magari all'inizio è buona norma anche prevedere una clear dell'area di testo se l'utente seleziona il genere allora possiamo creare sicuramente il grafo dis punto model punto crea grafo a cui passiamo il nostro parametro g poi occorrerebbe anche stampare la dimensione del grafo sull'area di testo così che noi possiamo controllare il vostro programma quindi txt result punto append text grafo creato e va bene e poi abbiamo le altre due stampe append text numero vertici due punti due punti più e avremo bisogno poi di un metodo che dal modello ci restituisca il numero di vertici supponiamoci sia già dis punto model punto n vertici poi lo andremo a creare e anche uno slash n al fondo direi sia qua che qua e poi facciamo la stessa cosa per gli archi copio archi n archi ok torniamo al modello anche questi sono metodi che potete copiare dai progetti precedenti perché sono sempre uguali public int n vertici return dis punto grafo punto vertex set punto size e poi public int n archi return dis punto grafo punto edge set punto size e la creazione del grafo è completata colleghiamo ancora prima di fare la prova finale il due delta massimo direi qui non abbiamo input direi semplicemente l'utente clicca il bottone sì l'unico controllo che potremmo fare è clicco il bottone il grafo deve già essere stato creato perché se il grafo è null ovviamente c'è qualcosa che non va quindi che ne so potremmo prevedere un metodo public boolean grafo creato che se if dis punto grafo ops uguale uguale a null ritorna falso else return true un metodo che ci dice solamente se questo grafo è già stato creato oppure no ci sono n modi di fare questo controllo eh e poi nel mio controller dico calcolo il delta massimo solo se il grafo è già stato creato quindi se not dis punto model punto grafo creato stampo l'errore quindi txt result punto append text crea prima il grafo e faccio la return se arriviamo qui invece vuol dire che il grafo era già stato creato e quindi posso richiamare il mio metodo boh possiamo stamparlo in vari modi for adiacenza a in dis punto model punto get delta massimo quindi mi prendo i miei vari massimi che spesso ce ne sarà uno solo ma non importa importiamo adiacenza e la stampo txt result punto append text a punto to string più magari uno slash n e facciamo anche una clear qui all'inizio ok dovremmo esserci proviamo a lanciare il main va bene selezioniamo proviamo a cliccare su delta massimo vediamo se l'errore funziona si direi di sì crea primo il grafo ok selezioniamo il nostro jets crea grafo va bene 130 vertici 8000 e 4 archi delta massimo è proprio il delta massimo che abbiamo recuperato prima nel nel test quindi direi che ci siamo domande se non ci sono domande potremmo fare la pausa adesso di circa un quarto d'ora e poi nell'ora e mezza dopo vedremo finalmente la parte un po più interessante un po diversa e quella ricorsiva del punto 2 ok 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 Grazie.